Attenzione ed emozione dei presenti. Come avvenivano le materializzazioni chiamate apporti orali presso il cenacolo umanità in movimento? Commento. Spesso accadevano così. Mentre parlavamo, Domenico, lo strumento del cenacolo, si assentava. Gli si chiedeva qualcosa e lui non rispondeva. Stava per materializzare un apporto nella bocca, non nella gola, come molti credono. Lo strumento era in trance, ansimava. A mano a mano che l'oggetto si formava, si avvicinava alle labbra. Mettevo l'obiettivo della macchina da ripresa al lato della bocca, per riprendere meglio e per capire di che cosa si trattava. Poche volte riuscivo ad intuirlo. Intanto la parte materializzata dell'oggetto era giunta alle labbra ed io potevo ritrarla. Se l'apporto aveva delle punte, queste si conficcavano nella mucosa e producevano lievi lesioni. Altre volte le punte si incastravano nelle protesi mobili che lo strumento aveva in bocca e le rimuovevano. Attenzione ed emozione dei presenti. Una volta ho tirato la porzione dell'oggetto che pendeva dalla bocca e lo strumento ha emesso un forte grido di dolore. La guida fisica Enzo ha poi spiegato che la parte inferiore dell'oggetto si stava materializzando ed era ancora congiunta alla mucosa della bocca. Qualche volta piangendo, lo strumento si risvegliava intontito dalla trance.